Credo di aver scelto il video peggiore per inaugurare il nuovo microfono, che sta qui, perché sarà un video in cui dovrò muovere tanto le braccia per far sentire, per odorare parti delle braccia su cui ho messo dei profumi e quindi sicuramente ci intrupperò un sacco di volte, però non fa niente, ci proviamo lo stesso, parliamo di profumi e dei profumi che mi ha mandato Mary. Ciao, io sono Laura e oggi parliamo di profumi e in particolare parliamo di sette profumi di nicchia che mi ha mandato Mary del canale Annasodicane. L'estate scorsa, se non sbaglio, gli avevo mandato io altrettanti profumi che ero quasi sicura le sarebbero piaciuti. Lei ha fatto una recensione, poi l'ho fatta io la recensione degli stessi profumi e abbiamo deciso di provare a parte invertite questo stesso esperimento. Per cui oggi, dopo tantissimo tempo, Mary mi dovrà scusare, ma veramente ci ho messo un po' a registrare questo video, non tanto per i profumi, perché i profumi, diciamo che me ne sono fatta un'idea abbastanza chiaramente e ho avuto modo di provarle, adesso vi faccio vedere, abbastanza approfonditamente, come vedete sono quasi tutti verso la fine, pur essendo dei campioncini, insomma, abbastanza, insomma, non piccolissimi, anzi, credo siano 5 ml, quindi insomma, non poco per provare, ma perché la mia vita è stata un delirio in questo periodo, lo sapete perché anche qui su YouTube sono stata un po' altalenante, però proviamo a fare oggi, a recuperare oggi la recensione di questi profumi. Sono 7 profumi, credo, non tutti di nicchia, nel senso che ci sono anche profumi di distribuzione, di, tra virgolette, grossa distribuzione, anche se non dei commerciali proprio in senso strettissimo. Mi riferisco per esempio a un profumo dell'erbolario, di cui parleremo dopo, che è sicuramente diciamo commerciale, però è quel commerciale un po' particolare che secondo me ha a che fare un po' con la nicchia. Stessa cosa per Reminiscence, che trovate in svariati posti, compreso per alcune referenze d'acqua e sapone, però io lo considero in qualche modo un profumo di nicchia, un brand di nicchia, diciamo. E quindi diciamo che sono 7 profumi per lo più di nicchia. Partiamo dal primo, che è l'unico di questi che io avevo già avuto modo di provare. Parliamo di Core Eterno, Punk Motel, è forse uno dei loro profumi più famosi, questo brand nato a metà fra New York e Roma, ed è un profumo che, a prescindere da, contrariamente a quello che ti aspetteresti pensando a un nome così, Punk Motel, è assolutamente un profumo super elegante, un fiorito molto delicato, molto leggiatro, veramente molto elegante. Mi piace tantissimo, questo io ho pensato più volte di comprarlo in full size e penso che prima o poi lo farò, anche se non voglio comprare per ora ancora altri profumi. ed è un profumo che ha un andamento particolare, perché all'inizio appunto ha questa nuvola di eleganza, di fiori, di fatto. Cioè non ho da dichiarata di acido salicilico, il che mi è molto colpito, cioè io che, diciamo, uso l'acido salicilico, diciamo, per la pelle quando faccio skin care, mi è molto colpito questa cosa, ma soprattutto sulla mia pelle questo profumo, man mano che è scema, non ha una persistenza longevissima su di me, però si trasforma in uno skin scent, in un profumo di pelle buona, moschiato, di pelle pulita, di pelle bella, calda, lievemente appena fiorito, ancora anche nel dry down, nell'asciugatura, e è un profumo che mi piace tantissimo. Dicevo, è l'unico che avevo provato perché avevo preso dal sito stesso di Cuore Eterno il Discovery Set e ho scelto di provare proprio questo, e devo dire che è un profumo che mi piace proprio tanto. Ripeto, al contrario di quanto direbbe il nome, è veramente molto elegante. Il naso è Maffei, quindi non mi stupisce più di tanto in realtà questa cosa. Veramente bello, veramente molto bello. Non è un profumo, non ci riconosco, diciamo, delle note specifiche. Quando lo sento al naso, sento solo un profumo delicato di fiori bianchi, e poi appunto questa asciugatura un po' mask, un po' muschiata, dolcina e però anche, come dire, calda, avvolgente. Veramente bello, bello, bello. Il secondo profumo di cui vi parlo è Chocolate Greedy di Montal, ed è un profumo che io volevo sentire da tanto perché avevo sentito dire, diciamo, di Montal si parla nel mondo dei profumi di nicchia, spacca abbastanza, nel senso che Montal, vabbè, è un naso, un caposaldo tra i nasi, cioè veramente un maestro. Però il suo brand, il brand Montal, da molti non è molto apprezzato, comunque è apprezzato con fasti alterni, perché è uno di quei brand in cui ci sono un milione di referenze, e spesso le linee, diciamo, hanno, come dire, una base molto uniforme, molto simile l'una all'altra, e magari si differenziano per qualche nota in più o diversa l'uno rispetto all'altro. Quindi, diciamo, è un brand di cui non sempre ho sentito parlare bene. Io non lo conosco per niente, forse questo addirittura è il primo profumo che sento, però era l'unico di cui ho sempre sentito parlare bene, alla stessa maniera da tutti. Devo dire che a me piace, è un profumo, il chocolate greedy lo dice il nome, che sa di cioccolato, sa esattamente di cioccolato, cioè sa di, su di me sa di cioccolatino lint, cioè proprio di cioccolato un po' fuso, molto dolce, un po' vanigliato. È un profumo che mi piace, nel senso che lo sento di comunque buono, però non è un profumo, non è uno di quei profumi che mi sentirei di indossare, diciamo, di portare molto a lungo. Lo trovo, come dire, un odore molto buono, che però forse non fa per me come profumo, però è buono, cioè sa di buono, sa di cioccolato, come può non essere buono, cioè è proprio, sa di cioccolatino e sulla mia pelle questa parte di cioccolatino proprio vera e propria esce fuori ancora di più, quindi ancora di più che non sentendo ecco nel tappo adesso, in cui lo sento un filo più polveroso e forse anche un filo più dolce. E quindi diciamo che sono stata contenta di provarlo, però forse non direi che è un profumo di cui vorrei la full size. Un profumo invece di cui la full size mi piacerebbe molto, anche se è molto intenso, è Moon Dance di Giulietta Segan. Parliamo di una tuberosa, fiore bianco per eccellenza e forse è una delle mie note preferite in profumeria in assoluto. È un profumo proprio che si fa sentire, cioè che è di chi vuole piacere in qualche modo, anche di retro, però in senso buono, cioè è un profumo che ha un po' un allure vintage, però non un profumo che sa di vecchio, ma è un profumo che se lo immagino su mia madre da giovane ce lo sento bene, non so come dire, cioè è un profumo che magari negli anni 70-80 era già un profumo che riesco a immaginarmi. Viene un po' secondo me da quella tradizione della profumeria un po' opulenta di quel periodo lì. A me piace moltissimo, devo dire che ovviamente piacendomi la tuberosa è facile che mi piaccia un profumo alla tuberosa. È un profumo alla tuberosa abbastanza intenso, però non di quelle tuberose un po' appassite, anzi per niente, io non c'è tanto per niente odore di appassito qui, solo un che di un pochino più sporco, però sicuramente non quell'appassito un po' fastidioso che a volte possono avere le tuberose. Il colore del succo è stupendo, bellissimo proprio. Devo dire che non me l'aspettavo. Io ho avuto un discovery set, però mi sento di non conoscerlo bene come brand e questo è un profumo che mi conquista, è uno proprio di quei profumi che a me piacciono. È davvero molto opulento e ricco, però in maniera sempre un po' elegante diciamo, sempre un po' di una donna che vuole, per me è da donna ma non nel senso che non lo possono portare, può portare chiunque, però mi ricorda quel femminile un po' invadente se vogliamo, mi stava pure cadendo, di una donna che si vuole far sentire quando entra in una stanza, non so come dire. Bellissimo, anche un che di più asprognolo e devo dire che anche questo gli dà un suo che. Bello, una bella tuberosa. questo ci ha azzeccato a mandarmelo Mary. Invece, forse quello che tra tutti, no, ce n'è un altro che mi è piaciuto un po' di meno. Allora, Mirra di Erbolario è un discontinuato. Io avevo detto a Mary che stavo cercando di scoprire un po' il mondo dell'incenso e quindi lei mi ha mandato questo dicendomi, questo è un discontinuato, però se stai cercando di scoprire l'incenso, uno è discontinuato e quindi magari ti fa piacere sentirlo nonostante non si trovi più in giro e due le sembrava forse un buon esempio di incenso da cui partire in qualche modo. È un incenso che mi piace molto perché non è per nulla, non ci sento niente di chiesa, niente di ecclesiastico. È un po' legnoso come incenso. Anche qui ci sento anche un'apertura fresco, quasi frizzante, direi quasi croccante. L'incenso è una nota fredda in generale. Cioè se pensate all'incenso che si sente in chiesa, immaginate questo odore freddo in realtà. Questo io invece lo sento più accogliente, più caldo. Nonostante questa apertura, come vi dicevo, un po' croccantina, che onestamente non so da cosa sia data. Come volevo andare un po' a memoria, un po' a suggestione. Non sarà comunque un video veloce, un video lento, però ci tenevo insomma a darvi un po' l'idea di quello che io percepisco quando sento questi profumi. Io appunto sento un chedi legnoso, una specie di contrapposizione tra questo incenso freddo, un chedi croccante, di fresco in apertura, ma anche un cuore molto caldo e avvolgente. Soprattutto lo sento sulla pelle questo tema dell'avvolgente. Di nuovo, si tratta di un profumo che mi ha fatto piacere testare e che forse non avrei comprato, anche sentendolo in negozio. Cioè, se ancora ci fosse stato in negozio, forse non l'avrei preso comunque, perché non è un profumo che mi colpisce, però è un profumo che mi fa piacere aver provato perché effettivamente è una interpretazione dell'incenso che è interessante. Se avete dei profumi all'incenso che secondo voi dovrei provare, ditemelo, perché effettivamente è una nota che conosco poco, ma che nei profumi in cui l'ho sentita di solito mi convince, mi piace. Passiamo al prossimo profumo, che è quello che forse mi ha convinto di meno nella selezione, nel senso che è quello che mi piace di meno, ma mi ha aperto la strada a tutto un mondo nuovo e sto parlando di Miss Charming. Miss Charming è un profumo di Juliette Sagan alla rosa. È una rosa fruttata. Ora, sulla mia pelle questa frutta non si sente per niente, si sente molto una rosa ed è una rosa che prende una connotazione un po' aspra. non c'è... Allora, io dico sempre che per me il mio problema con la rosa è che è spesso associata a delle essenze come il geranio, la gardenia, delle cose che rendono la rosa un pochino più aspritta, un pochino più limonosa. E a me quella parte limonosa non mi piace. E sto cercando un profumo che alla rosa, sto sperimentando un po' di profumi alla rosa, perché vorrei trovarne una che mi affascini, mi piaccia, senza quella nota lì. Io la prima volta che ho sentito questa rosa sulla pelle, questa Miss Charming di Juliette Sagan, l'ho sentita meno geraniosa di quanto non la sento adesso. Il geranio non c'è come nota, anzi sono note piuttosto dolci, quelle che accompagnano la rosa in questo profumo, se non ricordo male. La piramide non è particolarmente complessa, però io ci sento comunque questa cosa un pochino aspra, però ce l'ho sentita meno rispetto a tanti altri profumi che ho sentito con la rosa ed è stato proprio questo profumo che mi ha dato in là per dire adesso devo trovare una rosa che mi piaccia davvero. Io avevo, poi l'ho regalato alla mia amica al fungo mushroom simu, avevo un profumo di parfum de rosine che pure aveva questo, che aveva con sé la menta e aveva però comunque questo odore un po' geranioso che non mi convinceva del tutto. Al mio naso è facilmente, cioè la rosa prende facilmente quella connotazione, probabilmente è anche una questione di pelle, cioè sulla mia pelle lo sento molto così, li sento molto così profumi. Vediamo se spruzzandolo nel tappo, cosa che è veramente brutta, ma... Sì, di fatto, secondo me è un po' la mia pelle che la rende un po' più aspra questa rosa perché effettivamente nel tappo io sento, o comunque nella nuvola io sento un profumo che in realtà di geranioso non ha niente come direbbe anche la piramide e diventa fresco, diventa la rosa che vorrei in qualche modo. Però sì, è sicuramente una rosa dolce, sicuramente una rosa che gli amanti della rosa dovrebbero sentire, secondo me, perché appunto ha questo twist un po' più dolcino, un po' più fruttato che non è male. Però appunto se la vostra pelle rende la rosa un pochino più aspra, forse come per me non fa per voi questo profumo. Però anche questo sono molto contenta di averlo provato. Altro profumo che sono contentissima di aver provato è Vanilla Redding Lush. Allora, Vanilla Redding Lush tutti mi hanno detto, io ho sentito diverse recensioni, tutti dicevano finché non l'ho provato sulla pelle non pensavo che mi sarebbe piaciuto. Effettivamente sulla pelle prende una connotazione un pochino più legnosa, un pochino più, sì, vanigliosa, ma anche legnosa, che me lo rende più interessante. Sono in una fase in cui non sono particolarmente attratta dai profumi troppo, troppo gourmand. Questo è un buon compromesso, però forse è ancora un pelo troppo vaniglioso, diciamo, per cui non credo che lo vorrò provare, però è come se fosse una vaniglia legnosa leggermente dolce. Devo dire che non è male come espressione della vaniglia, soprattutto se non vi piacciono le vaniglie proprio estremamente, estremamente dolci, almeno sulla mia pelle non lo è. Anche nel tappo non lo è, quindi forse non lo è, quindi forse non dico scemente. Il profumo però tra questi, al di là della tuberosa di Moundance e di Punk Motel che già conoscevo, che più mi ha colpito in assoluto è Dragé di Reminiscence. Dragé di Reminiscence è stupendo, io ogni volta che lo spruzzo ci sento una cosa diversa, però di fatto quello che si sente, io quando l'ho sentito la prima volta pensavo che fosse un gourmand appunto, invece no, invece è un profumo fiorito di fiore, la cosa che io sento di più è il fiore di mandorlo. È stupendo secondo me, mi piace tantissimo, perché appunto è questo fiorito, un fiorito bianco, quindi con le caratteristiche dei fioriti bianchi, anche una certa presenza, però che ha un sottofondo leggermente mandorlato, che lo rende bellissimo secondo me, anche questo secondo me è molto elegante. Io non so questo di quando sia in realtà, cioè di quanti anni abbia questa formula, questa piramide, però so che questo quando l'ho sentito la prima volta proprio mi ha rapito, perché è bello, è proprio bello, è un fiorito mandorlato, c'è il perfetto connubio secondo me tra il fiore, tra i fiori e quel tocco di cremosità, quel tocco di oleosità, anzi, ancora meglio che cremosità, che ha la mandorla. Bello, proprio bello, bello, bello. Non ricordo cos'altro ci sia nella piramide, credo qualche altro fiore, qualche altro fiore bianco, credo, però no, la cosa che io sento di più in assoluto è questo fiore di mandorlo, stupendo, davvero bello. Questo è un profumo che secondo me va bene sia per una donna, per delle donne più mature, che anche ha un tocco di, come dire, di sbarazzineria, di brio, che lo fa andare bene secondo me anche sulle ragazze più giovani, delle persone più giovani. Anche questo forse lo vedo più adatto alle donne, appunto, mi viene proprio in mente l'immagine di una donna, anche se, di nuovo, poi ci sono, cioè, uno magari non se lo immagina e ci sono uomini a cui stanno benissimo, a parte che io trovo che ognuno debba indossare il profumo che vuole, a prescindere dall'etichetta che gli viene messa per marketing. Però questo mi rimanda alla testa, rimanda alla mente un'immagine femminile, sicuramente, più che maschile. Bello. Fiore di mandorlo, sì. So che non sono stata di molte parole, però secondo me questi profumi che mi ha mandato Mary sono dei profumi, come dire, che sono cristallini, cioè subito capisci che cosa hai, che cosa ci vedi, che cosa ci senti. Rimangono un po' così. Io di nessuno di questi sulla mia pelle trovo, nessuno di questi trovo abbia una evoluzione troppo marcata. Sono un po' tutti come li sentite al primo snaso, a parte Punk Motel, appunto, che diventa più uno skin scent, e già adesso si sta cominciando a trasformare in skin scent. Gli altri sono tutti, sì, diciamo, si addolciscono un po', si ammorbidiscono un po', strada facendo, ma sono tutti abbastanza come li avete spruzzati. Sì, devo, stavo facendo, stavo ricontrollandoli tutti, però sì, mi sembrano tutti abbastanza, non voglio dire monotoni, non lo sono, sono però affidabili in qualche modo, non vengono fuori delle note strane in chiusura, non sentite dei guizzi strani nel cuore, sono dei profumi che, esattamente come li sentite la prima volta, al momento in cui li spruzzate, poi rimangono per tutta l'asciugatura. ovviamente questo non vuol dire che li sentirete sempre uguali, questo ci tengo a dirlo, perché il nostro naso funziona ogni giorno in modo diverso, per cui vi dicevo appunto che il reminiscence e che il dragé, io lo sento, il dragé, la prima volta che l'ho sentito pensavo che fosse un gourmand, poi risentendolo, quindi ci ho sentito molto di più la nota di mandorla. invece risentendolo poi e utilizzandolo per bene, perché insomma il campioncino è bello in stato avanzato di utilizzo e mi è sembrato più fiorito, quindi non sto dicendo che li sentirete sempre uguali, perché questo non è possibile mai secondo me, però nel momento in cui li spruzzate, quello che avete, che ottenete è un po' quello che avrete dal profumo fino alla fine. Non so se è un discorso un po' astratto, un po' così, io come al solito non ho una preparazione scientifica o tecnica sul mondo dei profumi, quindi vi dico solo quello che io penso e provo quando li sento la prima volta. Sono curiosa di sapere, di vedere anche la recensione di Mary, di questi profumi. Mi piacerebbe appunto che si potesse ripetere questo scambio, per cui quando glielo ho mandato io, alla fine li abbiamo recensi tutte e due e magari si potrebbe fare anche in questo caso la stessa cosa. Se avete provato qualcuno di questi profumi, ditemelo nei commenti, fatemelo sapere perché sono molto curiosa di sapere se le impressioni che ho io da naso profano, diciamo, sono le stesse che ha magari chi ha più esperienza o anche meno esperienza di me. Se io vi sto simpatica, mi raccomando, mettete un like al canale e iscrivetevi, al video e iscrivetevi al canale. E niente, se vi lascio vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!